Benvenuti in questo nuovo video, sono Aleferanti25 e benvenuti su Foot Info FIFA 16 Edition Ok vabbè bastano queste cagate Oggi siamo qui con l'ultima news che vi devo dare a proposito di FIFA per ora Come vedete siamo nell'interfaccia utente del nuovo Foot Che è veramente qualcosa di epico, a me sta piacendo tantissimo le nuove caratteristiche che stanno mettendo E partiamo subito, quest'anno appunto verranno apportate cambi all'interfaccia utente E sarà un po' più semplificato come comandi Appunto come vedrete adesso vi farò vedere l'immagine dei pacchetti La gestione pacchetti e la nuova cosa Praticamente ci sarà una nuova funzione che sarà segnala Che ci permetterà di occuparci degli oggetti trovati rapidamente E muovendo la levetta a destra in su Poi possiamo muovere la levetta a destra in su Per selezionare gli oggetti da mettere sulla lista trasferimenti Da eliminare o da inviare direttamente al nostro club I nuovi pacchetti hanno una nuova animazione Una nuova animazione Che spero di mettervi ora O spero che sia arrivata Praticamente dentro questi pacchetti Ci saranno appunto questi gettoni draft Che nel primo episodio di questo FIFA Info Vi ho spiegato la modalità draft e tutte le cose E nei pacchetti oro potremo trovarli E usarli per partecipare appunto alla nuova modalità draft Senza spendere 7500 crediti o 300 FIFA Points A proposito del mercato trasferimenti Grazie EA Grazie Lo sto appena leggendo Per favore Da quanto lo chiedevo Ci sarà questo filtro speciale Che praticamente possiamo trovare Possiamo cercare gli oggetti in forma sul mercato trasferimenti Grazie Di cuore EA Perché se no dovevo cercare in giro per il mercato tutta sta merda Andiamo avanti Scusami Mi sono dovuta sfogare A proposito dell'intesa di squadra Ci sono degli indicatori intesa Che permetteranno di vedere meglio il livello di intesa di ogni giocatore Che mi sembra ci fosse già No niente Stavo dicendo delle cagate Come vedete tipo Qui in questa immagine Si vede la casette Che sta per essere scambiato con Messi Nell'intesa sotto il rating C'è scritto più 11 A va più 11 di intesa Quindi Ehm Poi L'ultima L'ultima Due cose Una cosa sono i Stare di ste Ehm Raga Scusate Sei bloccato Una cosa sono i consumabili Praticamente Ehm Food Individuerà e consigliare consumabili In base alla necessità del nostro giocatore Ehm Se dobbiamo Se siamo sprovvisti di un oggetto consumabile particolare Possiamo cercare sul mercato trasferimenti Prelevendo un tasto o pulsante Vabbè Insomma Tasto Pulsante Come si faceva un po' con i giocatori quest'anno No Ehm Possiamo anche Fare LB RB Per sfogliare rapidamente La nostra opinione di consumabili Senza uscire dalla schermata E L'ultima cosa È lo scambio di giocatori Ora possiamo scambiare tutti i giocatori Della nostra rosa In maniera più efficiente Attraverso la nuova schermata Scambio di giocatori Possiamo usare L2 R2 LTRT Per Xbox Per scambiare più ruoli in campo Senza uscire dalla schermata Ehm La stessa cosa che Si faceva su Food Del Mobile Anche perché Io ci giocavo molto Ehm Ed era molto comodo Hanno aggiunto un po' di cose Che c'erano anche Su Food Mobile E niente Questo qua Per le ultime news Spero che domani Che è il 7 per me Il E non so quando Che cosa sarà per voi Il 9 per voi Spero Escano altre news A parte A proposito di FIFA Al Gamescom E niente Se vi piace Il video Mettete gli piace Mettete gli piace Alla pagina Facebook Deve lo mettete Sotto in descrizione Domani esce Il primo episodio Della nuova serie Che durerà 5 episodi Non perdetevela Anche perché è piccola E potete vedere Possono vedere a chiunque Anche se non avete tempo E niente Perci tutto bella Alla pagina